Nuovi progetti, piani di lavoro pronti per essere finanziati dal sistema di videosorveglianza a nuove figure operative già al Comune. Così si apre il nuovo anno, anno c'era inferiore, una città che segna più di un obiettivo in questo primo scorcio del 2023. Si punta anzitutto alla sicurezza del territorio. È stata infatti presentata domanda di ammissione a finanziamento per l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco sulla base di quelle che sono le risorse finanziarie fissate in 36 milioni di euro per l'anno 2022 secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Dopo l'analisi e la valutazione del territorio, l'ufficio di polizia locale di concerto con l'ufficio tecnico ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede una copertura ulteriore del centro città e l'inclusione di aree periferiche, Fosto Imperatore, Via del Parco, Sant'Andrea, zona stadio comunale, con un sistema di 17 postazioni stradali proprio per le telecamere ad alta risoluzione. Stiamo lavorando concretamente, ha detto il sindaco Paolo De Maio, per rispondere al problema di sicurezza in città, per scoraggiare gli sversamenti, furti ed atti vandalici. E novità importanti nell'ambito sociale S1, a seguito delle stabilizzazioni dei mesi scorsi e grazie allo scorrimento della graduatoria, sono entrate in servizio a tempo determinato due nuove unità idonee, una sociologa ed un'assistente sociale, sempre per le politiche sociali. È stato anche pubblicato l'avviso per l'attivazione dei progetti personalizzati per il dopo di noi, indirizzati a persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare. Le proposte progettuali potranno essere presentate entro e non oltre il 16 gennaio prossimo. Dovranno riguardare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative e azioni di realizzazione di soluzioni abitative innovative. Un altro obiettivo importante per Nocera Inferiore è l'affidamento della progettazione per l'accesso in sicurezza a Montalbino. Al via dunque l'individuazione dei due professionisti che si occuperanno della progettazione esecutiva relativa al progetto di accesso al Santuario dei Miracoli di Montalbino. È stata indetta infatti la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva. A seguito della linea di finanziamento, contributi, interventi, di messa in sicurezza edifici e territori, è stata concessa da parte del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, un importo pari ad oltre un milione di euro.